Sì, grazie. Bellissima. L'hai già detto, non è che... Amore. Sì. Voglio renderti felice. Sì. Segnati Liban. Scri, scri. I.T. Aspetta, aspetta, aspetta. I.T. 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 Ipsilon. Eh, non stai sbagliando, eh? Vabbè, vai piano, eh. Ancora sbagli e poi rimani male. No, no, no. 0.10. Sì. 0.30. Sì. Sai che bello qua, eh? Bellissimo. Qui ci vediamo spesso, mi rilasso, sto tranquillo, sereno, stacco da lavoro. Eh, non so, non so. Eh, se avessi io un lavoro, sarei anch'io più sereno. Eh, c'è un sacco di opportunità, eh. Eh, lo so. Adesso c'è proprio una che un amico mio sta creando... Tu lo conosci il franchising? Mmm. Me la cavo meglio con l'inglesing. Di la verità. Mmm. Anche un po' di spagnolo, ah, in... 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 di amaro. Subito, subito, moto dog, bucchino di amaro. Non vedi, non vedi, non vedi, non vedi. Non vedi. Ingazzano... Capurì. Capurìssus so... Capurìssus so... Barbut εδώ... Scus... Non... Non... Non mi immaginavo. Si, 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 si figura. Un, 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 un... Grazie, grazie. Buongiorno, il mio amico Matteo sempre bello, elegante, fresco, frizzante e simpatico. Mi prepari un espressino molto cremoso con del cacao come solo tu sei fare, grazie. Subito Ivana, l'espressino per te arriva velocissimamente, non ne idea, quando arrivi tu subito... Si ferma il mondo, si ferma! Beh... Lo ho detto che... Prima stavo a prendere un po' po' più fessi a te... Royal... Sto prendendo un po' più fessi a Ken... Signor giudice, in riferimento all'articolo 213... Pronto? Pronto? Avvocato, buongiorno, la disturbo? Assolutamente no, signora. Sto preparando la ringa per domani. Buon gustaio. Va bene, allora la lascio cucinare in pace, ci sentiamo più tardi. Buongiorno. Ma... La ringa. Davvero interessante. Senti, raccontami di te, dimmi qualcosa, perché... Cosa vuoi che ti dica? E parlami della tua famiglia, non so, vivi a casa con i tuoi... Con i miei. Sì? Ah, dai. La mia famiglia. C'è mio padre, che è ingegnere elettrotecnico. Mio fratello, un disegnatore grafico. E poi ci sono io che sono biologo, lo sai? Meno male che sta mia sorella che fa la prostituta e mantiene tutta la famiglia. Per fortuna, perché se no... Ma... Ma veniamo a noi, come si suol dire. Et voilà. Ma grazie mille. Non dovevi. Ma dai, è una cazzata. Ma poi che non dovevo, ma va bene. Non ti lasso occhi, posso? Buon salto. Eh, non ti piace, ma... Biologo. 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 Biologo.